Nelle notti di luna, un desiderio maledetto guida un mostro assetato di sangue. Non è una leggenda, non è un incubo. L'Icantrobus! Sei un essere ignobile, Alfred. No, non è come pensi tu, stavolta no. E' accaduta una cosa orribile. Forse è un essere umano, ma quando ha scelto la sua vittima, la sua ferocia è più spietata di quella di una velva. L'Icantrobus! Io sono un medico, signore. Un licantropo non può venire giudicato come un volgare assassino. Nessuno ha diritto di giudicare gli altri, tantomeno quando sono morti. Una storia allucinante e violenta porta il terrore e la morte in un riformatorio femminile. L'Icantrobus! 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 La scienza è impotente di fronte al mistero che si nasconde dietro questo nome. L'Icantrobus! Quale di questi volti nasconde l'angoscioso segreto? L50 sterline. Lui paga dopo e forse potrai avere anche di più, perché gli piace. Cina! Giro Giro Licandropus La suspense del giallo e il brivido dell'orrore in un film che racconta una storia imprevedibile ispirata ad un terrificante fatto di cronaca Licandropus un film che vi costringerà a trasformarvi in detective per poter svelare il più appassionante dei misteri